Franz Anton Mesmer, il misterioso medico che ha influenzato l'ipnosi. Franz Anton Mesmer è stato un medico tedesco che, alla fine del Settecento, ha sviluppato una teoria e una pratica medica basate sul concetto di magnetismo animale. Questa teoria sosteneva che il corpo umano fosse attraversato da un fluido magnetico che, se bloccato, poteva causare malattie. Mesmer riteneva che il magnetismo animale potesse essere liberato attraverso una serie di tecniche, tra cui il contatto con oggetti magnetizzati, la suggestione e la trasmissione del fluido magnetico da persona a persona. Le teorie di Mesmer, inizialmente accolte con entusiasmo da molti, furono poi oggetto di forti critiche da parte della comunità scientifica. Nel 1784, una commissione reale francese, presieduta da Benjamin Franklin, concluse che il magnetismo animale non esisteva e che i risultati ottenuti da Mesmer erano dovuti all'effetto placebo. Nonostante le critiche, le teorie di Mesmer ebbero un'influenza significativa sulla medicina e sulla cultura del tempo. Il magnetismo animale fu adottato da molti medici e guaritori, e diede vita a un movimento popolare noto come mesmerismo. Il mesmerismo fu poi alla base dello sviluppo dell'ipnosi, che oggi è una tecnica terapeutica riconosciuta. La vita e la formazione di Mesmer. Mesmer nacque a Isnang, in Germania, nel 1734. Studiò teologia e filosofia ad Illingen in Golstadt, e medicina a Vienna. Dopo la laurea, si dedicò alla pratica medica, specializzandosi nella cura delle malattie nervose. Nel 1766, Mesmer si trasferì a Vienna, dove iniziò a lavorare come medico privato. In questo periodo, iniziò a sviluppare le sue teorie sul magnetismo animale. Mesmer riteneva che il magnetismo animale fosse una forza naturale che poteva essere utilizzata per curare le malattie. Questa forza, secondo Mesmer, era presente in tutti gli esseri viventi, e poteva essere trasmessa da persona a persona attraverso il contatto fisico o attraverso la suggestione. Il successo del mesmerismo. Mesmer iniziò a praticare il magnetismo animale su suoi pazienti, con risultati apparentemente positivi. Presto, la sua fama si diffuse in tutta Vienna, e iniziò ad attirare un gran numero di pazienti, tra cui nobili, intellettuali e artisti. Il successo del mesmerismo fu dovuto a diversi fattori. Innanzitutto, Mesmer era un oratore carismatico e convincente, che riusciva a creare un'atmosfera di suggestione aspettativa nei suoi pazienti. In secondo luogo, il magnetismo animale offriva una spiegazione semplice e plausibile per le malattie nervose, che all'epoca erano spesso considerate incurabili. Le critiche al mesmerismo. Il successo del mesmerismo non passò inosservato alla comunità scientifica. Nel 1784, il re di Francia, Luigi XVI, istituì una commissione reale per indagare sulle teorie di Mesmer. La commissione, presieduta da Benjamin Franklin, concluse che il magnetismo animale non esisteva e che i risultati ottenuti da Mesmer erano dovuti all'effetto placebo. Le conclusioni della commissione reale furono un duro colpo per il mesmerismo. Tuttavia, la teoria di Mesmer continuò a essere adottata da molti medici e guaritori, e diede vita a un movimento popolare che si diffuse in tutta Europa appunto l'influenza del mesmerismo. Il mesmerismo ebbe un'influenza significativa sulla medicina e sulla cultura del tempo. Il magnetismo animale fu adottato da molti medici e guaritori, e diede vita a un movimento popolare che si diffuse in tutta Europa. Il mesmerismo fu poi alla base dello sviluppo dell'ipnosi, che oggi è una tecnica terapeutica riconosciuta. Il mesmerismo fu anche un movimento culturale importante. I mesmeristi promuovevano l'idea che la mente umana avesse un potere curativo, e che potesse essere utilizzata per guarire le malattie. Questa idea influenzò molti pensatori e artisti dell'epoca, tra cui il filosofo Friedrich Schelling e il poeta Johan Wolfgang von Goethe. La figura misteriosa di Mesmer La figura di Mesmer è ancora oggi avvolta da un alone di mistero. Era un uomo carismatico e affascinante, ma anche un personaggio controverso. È stato accusato di essere un ciarlatano, ma anche di essere un genio visionario. La verità sulla figura di Mesmer è probabilmente una combinazione di questi due aspetti. Mesmer era un medico capace e un oratore carismatico, ma era anche un uomo che credeva fermamente nelle sue teorie. Le sue teorie sul magnetismo animale erano basate su una visione del mondo olistico.